Linguistica, linguistica, la linguistica. In questo video si parla di linguistica e si parla del nulla, si parla di Dio e questo video lo dedico all'amico Tommaso Minniti. Tommaso Minniti, perché su Youtube, non ricordo bene relativamente a quale argomento, Tommaso Minniti mi ha detto che una certa faccenda finisce nel nulla. Non ricordo Tommaso Minniti relativamente a quale faccenda, tutto finisce nel nulla, per cui io sempre su Youtube ho risposto a Tommaso Minniti dicendo guarda Tommaso Minniti che nulla non esiste, esiste la parola nulla, cioè ogni parola, nella linguistica, la linguistica è la scienza del linguaggio, Beh, ogni parola è un segno, un segno oppure anche un significante, le parole sono dei segni o dei significanti, ogni parola, cioè ogni segno, ogni significante ha un significato. Per esempio, se io dico tavolo, tavolo è una parola, una parola, un segno, un significante, e il significato del tavolo è l'immagine del tavolo che io mi formo nella mia mente. Poi ogni parola, ogni parola, ogni segno, ogni significante, oltre ad avere un significato, il significato è l'immagine che si forma nella mente, ha anche un referente, cioè la parola tavolo come referente c'è il tavolo sul quale tu ti siedi per fare colazione, per fare pranzo, per fare cena, Il tavolo c'è, perché tu lo usi per fare pranzo, colazione, la cena, o anche per scrivere un romanzo. Bene, la parola nulla, la parola nulla, cioè il nulla esiste come parola, parola, segno, significante, e la parola nulla esiste anche come significato, perché forse, 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 Nella tua mente puoi immaginarlo nulla, forse, forse, però di certo non c'è il referente, perché nulla, tu non lo puoi toccare nulla, capito? Il tavolo lo puoi toccare, il tavolo, ma nulla non lo puoi toccare, io penso che si faccia fatica anche a immaginarlo nulla. Poi, Tommaso Minniti però, non è stato contento, non è stato contento della mia definizione, per cui, cioè, è stato contento, ma è andato avanti, Tommaso Minniti è andato avanti e ha detto, ma allora Papa Francesco, Papa Francesco, credendo a Dio, credendo a Dio, Papa Francesco, credendo a Dio, crede ad una parola, un segno, un significante, che ha un significato, cioè Dio, tu te lo puoi immaginare nella tua mente, però non ha un referente, tu non lo puoi toccare Dio, non lo puoi toccare Dio. Eh beh sì, purtroppo è così, è così, Dio, 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 la parola Dio, Dio è una parola, parola, segno, significante, ha un significato, cioè il significato è l'immagine che tu nella tua mente ti fai di Dio, e però non c'è il referente, e non c'è il referente, perché Dio non lo puoi vedere, non lo puoi toccare, cioè, non lo puoi raggiungere con i tuoi sensi, i tuoi cinque sensi, purtroppo è così. Papa Francesco, io gli ho detto a Tommaso Minniti, che io a Papa Francesco gli voglio tanto bene, però purtroppo è proprio così, come dice Tommaso Minniti, che Papa Francesco, relativamente a Dio, crede a qualcosa che non ha un referente, cioè il tavolo, la parola tavolo ce l'ha il referente, che è il tavolo sul quale tu ti vai a sedere per fare colazione, pranzo, ceno, per scrivere il tuo romanzo, ma Dio, la parola Dio è un segno, un significante, c'è il significato, c'è il significato, quello che c'è nella tua mente, però non è il referente, il referente, perché Dio non, mi pare che qualcuno abbia scritto, detto Deus Abbasconditus, Deus Abbasconditus, Dio nascosto, è così, è così, e lo stesso discorso l'ho fatto pure relativamente, la parola nulla, perché una volta una brava girl mi disse, professore, la mia professoressa, la mia professoressa ha parlato del nulla, del nulla, del nulla, ha detto che nulla esiste, no, no, io ho fatto un video apposito, non ricordo come è titolato, il nulla è la stessa cosa di cui si può dire di Dio, il nulla esiste come parola, è una parola, segno, è un segno, è un significante, c'è un significato, perché forse, forse, riesci a immaginarlo il nulla, ma non c'è il referente, perché tu non lo puoi toccare il nulla, con i tuoi sensi, non lo puoi raggiungere nulla, beh io qua mi fermo, perché ho tante altre cose da dire, va bene, ok Tommaso Minniti, e questa è la situazione, ma la situazione più bella Tommaso Minniti è quella di andare subito in libreria e comprare quest'opera storico-mitologica, va bene, la strip del serpente, a te Tommaso Minniti, a tutti voi, tanti cari saluti per l'appunto dalla strip del serpente.